Buongiorno, sono Stefano Rigazio di Entouse, oggi qui a Smau abbiamo parlato di Joomla per i business online. Joomla è un CMS open source che permette di creare da zero un sito internet, oltre che al sito internet però abbiamo parlato di ottimizzazione e di visibilità, in quanto il sito è importante, oggi come oggi, soprattutto per le aziende, se è visibile, ossia se il nostro potenziale cliente, il nostro potenziale utente riesce a trovarci nelle prime posizioni. Abbiamo visto cosa fare e cosa non fare con Joomla, alcune estensioni, come ottimizzarlo, abbiamo visto l'e-commerce allo stato attuale, cosa può portare l'e-commerce, abbiamo visto infatti che potrebbe essere uno strumento per uscire dalla crisi, non solo come evento online, ma anche come catalogo prodotti, quindi l'espansione dell'azienda e soprattutto internazionalizzazione. Abbiamo chiuso con il discorso dei social, quello che poi ci prevede per il futuro con le varie versioni successive di Joomla. Ringrazio a tutti i partecipanti e buona giornata a tutti da Stefano Rigazio.